Riti legati al risveglio della vita, sagre, degustazioni e tanto divertimento accompagnano anche quest'anno nell'Alto Garda i festeggiamenti del Carnevale. Tra gli appuntamenti anche occasioni per rivivere le antiche feste della tradizione, tra cui la Sbigolada di Torbole, giunta alla sua 143esima edizione e in programma per domenica 26 febbraio, e quella di Nago, anch'essa secolare, organizzata per martedì 28 febbraio. A Torbole, grazie al comitato Sbigolada e al supporto di alcune altre associazioni locali, sarà possibile degustare gratuitamente i bigoli con le sarde e l'olio d'oliva. L'appuntamento quest'anno torna nella sede storica di Piazza Goethe, che dalle 12.30 si trasformerà in un grande ristorante all'aperto. La Sbigolada naghese, organizzata dal comitato Carnevale Nago, con il patrocinio del comune di Nago Torbole e il sostentamento della comunità di Nago, che si dimostra sempre molto generosa nel dare il suo contributo, proporrà gli spaghetti conditi con ragù di carne. L'appuntamento è in Piazzola, alle 12.30. La manifestazione sarà accompagnata, come di consueto, dalla musica degli MG Project e si svolgerà la tradizionale premiazione delle mascherine.